ragazzi bentornati in questo terzo episodio su hellblade 2 continua l'avventura con senua io inizio sempre o almeno per questi primi tre episodi con questa avvertenza sui contenuti ho visto che alcuni di voi sono stati molto contenti di aver messo questa cosa perché l'hanno fatto davvero in pochi però è sicuramente un gioco un po pesante quindi preferisco comunque mettere giù questo perché ragazzi anche i più piccoli possono vedere dei video e quindi preferisco comunque mettere un'avvertenza dal quarto episodio in poi ragazzi spero vivamente che abbiate capito che gioco è e quindi direi di non metterlo più però però almeno per i primi tre ho deciso di comunque far vedere sempre questa schermata che è molto importante ora continua l'avventura con senua io ragazzi vi chiedo un enorme like ho visto tantissimi commenti positivi soprattutto nel primo episodio poi boh poi boh capisco che è sul game pass capisco che molti lo stanno giocando però ragazzi con i vostri like sicuramente mi aiuterete a far vedere di più questi video questo gioco a più persone la situazione è clamorosa in questo momento perché senua ha incontrato più persone siamo già in tre non me lo sarei mai aspettato ragazzi sinceramente di trovare altra gente che può fare un percorso con noi la mia paura è la solita che succedono brutte cose a tutti però continuiamo vediamo un po sono molto curioso molto molto oh figata perfetto ah ragazzi le bande le bande nere è così il gioco si possono togliere forse solo su pc le bande nere quelle che vedete sopra su tipo stile cinema ma è figo anche così eh forse si possono togliere solo su pc ma andando proprio all'interno dei file quindi non è una cosa da fare sicuramente poi con qualche patch le toglieranno ragazzi miglioreranno anche gli fps beh guardate le patch sono sempre ma Si è chiamata per la morte. E io ho un'offeringo. Un toy girl. Ma perché? Perché si chiamavano l'ho? L'ho matato. Ci siamo sicuri adesso? Mi sembra di adorare. L'ho sembra molto calma. Ma cosa se viene? La sua cuore ha sembra di parlare di loro. Cioè, tutti i guardi hanno lasciato questa terra, quindi... Sì, dovremmo riuscire anche. No, ci vediamo a noi dove possiamo. Questa terra è scurita, Senua. Sì, solo troviamo la morte. Porca misera, ragazzi. Quindi stavano facendo tutto sto bordello per evocare quella creatura. E tutto ciò è davvero assurdo. Pensavo di poter trovare qualcosa di interessante qui. Ma non c'è nulla. Neanche se mi concentro. E qui nemmeno. Perdita di tempo. Perfetto. No, pensavo... Ok, seguiamolo. Che ansia, raga. Anche se adesso non dovrei avere ansia. I problemi arrivano dopo. Io... Vi ringrazio davvero per tutti i commenti, spero di vedervi in tanti anche oggi, perché... Mi date la carica, eh. Soprattutto in un terzo episodio, vedervi ancora lì, a mettere like e commenti, per me sarebbe davvero molto importante. Pur sapendo. No Questa creatura non è la prima volta che viene vista da lui. Queste terre sono praticamente infestate da questi Draugr, da questa creatura. Wow. Vi stavo dicendo appunto pur sapendo che è nel Game Pass e soprattutto lo vorranno giocare un po' tutti quindi è difficile che si guardino i video però io volevo portarvela e magari in live ci faremo il primo. Anche qui lui va ancora a destra e a sinistra c'è un'altra strada perché? Perché? Non mi segue, lui rimane lì. Qui niente? Qui niente. Ok, stiamo tornando in un altro villaggio? O è il villaggio di prima questo? Cioè mi stai dicendo che... Porca misera, stiamo tornando qua? Che roba. Che roba. Ovviamente ragazzi non troverò tutto. Ci saranno da fare altre run sicuramente. Lui si è seduto. Ma dai. Ci saranno da fare altre run per completare il gioco. Ma ho visto che ci sono la selezione dei capitoli. Quindi questo vuol dire che se uno vuole rifà il capitolo. Tu sei da Orknear con il vostro accent. C'è come qui? Come un slave. Ho ho il mestiere di là. Tu ti ha portato qui? Il mestiere. Talvez lui escapò. Non lo sappiamo il nome. No lo sappiamo il nome. Non ho chiamato il nome. Il mestiere di Borkaverghi. Lì. Dobbiamo andare lì. Lo sappiamo, lo sappiamo. per dire. Lo conoscerà sicuro. The Draga were always savage. This is worse than I ever thought possible. I believed that with time, we could claw back our land. He wished that, but he didn't believe it. He has no hope. This gets... darker... and bloodier with each day that passes. He is asking for help. ragazzi if the druyga took him it would be no less than he deserves help me she's weak don't feel pity he doesn't deserve it she cannot do it something about him she saw it not just a monster she saw it a ray of light he is evil there is no choice è così stupido non è listening to us stupido che è salvato il monstero il monstero il vostro è vero, Orgister non voglio parlare se tu accettate la mia hospitalità io posso trattare non farò solo io vrei con te ma questo non cambia nulla non chiedi di me o mio padre come potrei tu ancora non mi ha detto che è il toica so molti domande è un gigante si è un gigante si è un gigante si è un gigante il toica il toica un gigante un gigante ma ora che ha il gioco Fargrimmar knows questo land molti hanno cercato a combattre ma tutti hanno scoperto sono mortali magari i guardi possono uccidere ma non ci sono i guardi in questi land sono i gigante i guardi i guardi e i guardi i guardi e guardi ma potresti e pensi a meno c'è un respite per giorno ma non so questo le noce cresce più lunga in winter non c'è nessun giorno solo un uomo e pronto il tempo di maniera Pazzesco questo posto come è questo posto? il il so Ovega stocca la mia settimana quando la notte è riuscita. Si trampe i nostri amici e uccide i nostri amici che abbiamo lasciato. Ci siamo starviti. Perché non ti resta? Abbiamo provato. Ci hanno scoperto. Non importa come siamo arrivati dal giorno, la notte è riuscita. E i nostri bambini qui, i persone che sono troppate a riusciti. Ci sono riusciti. Beh io direi che non è rimasto granché Che casino ragazzi Il Tauga Quella creatura gigantessa Beh Guardate che cacchio di Stessa cosa che vi ho detto Precedentemente o magari nelle stories su Instagram Il gameplay ok Ripetitivo quello che volete Ma godersi questo gioco così È fantastico davvero Ma raga ma aspettatemi però E che cos'è? Pazzesco Non ho nulla da dire Oh Arrivo arrivo Caspita mi hanno detto di muovermi Fantastico Torghester, guarda un po' di te, guarda un pensiero su chi è il tuo reale enemy! Cosa significa chi è il reale enemy? Giants sono il reale enemy. Non c'erano, ha detto che non c'erano l'eslavera. Qualcuno ha chiuso? Questa ha segreti, ha bisogno di sapere. Lascia solo. Si vede più di voi. Ma c'è qualcosa che non quadra perché... C'è qualcosa di nascosto, qualcosa che sanno solo loro e ancora non ci hanno detto. Si può vedere la sfida che incontra il mondo. Si può sentire il suo pulso hidden. E sa quando il pulso si riuscita. Si sente ora. Un tremor sulla pelle. Un essere che prende forma. Altrimenti è venuto. Perchè si sono fermati? Che succede? Alline. Cosa cosa è? she brings the rage she's coming wait she destroyed and she will destroy again he knows she's here you need to run run she's here let's go get to the hills get out get out get out get out get out look Sì, ok. Aspetta La lava La lava porca me La lava O Oh 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 Sì. Pagata. Sì. Sì. Si è riuscita. Sì. 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 È umani. Voi, hai ellangrati. ...I disegnati... ...She is like us... ...She is suffering like me... ...And we can see how she knows you... ...Ugh... ...And now she died... ...She is helping us. You saved him, remember? Yes, he saved me now. Stop thinking... ...Sommero... ...Hide! She will not spare you again. Go! She's coming back! It's all you. There are some wills so strong they dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that night. Nightmare, if you wake the dream, does the nightmare die? It's a monster. It's a monster. It's a monster. We're not safe yet. Where are we? Make him explain. What is happening? Who is she? So when the volcano erupted, it will open the wall between this world and Yurtenheim. Now this world suffers too. The giants come flooding from the east, killing and eating whomever they could lay their hands on. Now some of us, we hide. You have to fight, not hide. Make defenses, struggle on. And some of us, use others to stem the tides. Others? What do you mean? Tell her, Thorgestr. Tell me, tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fagrimmer? We found a way to keep our people safe. He is part of it too. He believes. Your people are dying. There is no other way. Tell us, tell us. What are they doing? The godly of Borkarvichki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifice? He's offering them to the giants so that his people will be left. He's innocent. Evil. This stops now. He's a monster. He does not see, but he can see. His darkness is evil. We can show him. He's a monster. There is another way. There is always another way. He'll tell you how she marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. Then I will kill her first. She can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fagrimmer. Nothing is impossible. No. There is no way. He is right. We cannot kill the giant. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this. Why did you come here, Senua? To stop the slavers? You thought you were helping them. And now you are stranded. Stay. You can't stop them. You can't kill the giant. Dai, reagisci. I will. I will kill the giant. Oh, porca misira, di nuovo. Ma che allucinazioni sono? Comunque, ragazzi, l'avevo intuito che praticamente usava... Adesso che si è capito un po' la storia, usava gli schiavi per... Praticamente... Darli alla gigantessa. Comunque, beh, ragazzi, ma che figata è sta roba? Ragazzi, mi son cagato addosso, comunque. Durante la fuga, un pochino sì. Un pochino sì. Ora godiamoci questa parte, perché... Voglio capire che... Che sta pensando. Non puoi matare il giant. Che atmosfera. Anche meno, eh? Anche meno. Questo è palesemente suo padre. Dove sono, ragazzi? Perché potevo andare dritto di là. O forse... Qui c'è qualcosa, ragazzi. C'è qualcosa. Perché portarmi qua? Non ha senso. No, ragazzi, c'è per forza qualcosa, dai. Ah! Grazie alla cippa. Scusate, ragazzi. È solo che non danno nessun input. Non... In teoria, ragazzi, non si sanno nemmeno i tasti se non vai nei menu a cercare, eh. Cioè, è proprio una roba... Oh, ma sta strada non c'era prima. Mi sta riportando sulla strada. Assurdo. Ora ho la torcia. Ora ho la torcia. Di qua. Ci sono tre strade qui. No, ragazzi, erano tre strade. Stavo tornando indietro. Sembrano venire da qui. Sì, le voci. Ga... You will never save them. You can't even save yourself. Oh, sketch up. The gods cannot be destroyed. Ma... Vai! Te l'avevo schivato, porca me. Senua Allora, non è facile la parata Sembra più di qua però Sembra più di si che roba ragazzi veramente pazzesco pazzesco la persiste, you're only constant. There is no way out. There is always a way. No, you will see. A blow you can't recover from. An abyss you can't crawl out of. A nightmare you can't wake from. And I will be waiting. You must do as I say or you will anger the gods. Fischia, questo non ha fatte tre. The gods must be placated. Or a plan will suffer. Blood and fire will appease the gods. Death is the only consequence that will be destroyed. I know the truth, Senua. You just have to submit to me. Let me mow you. Shape you. Give you strength. Be my daughter again. You'll be trapped here forever. You won't be able to see. Che roba. It's time to give up, child. Leave this land. No. What you did to me, I see it here. They are cowed like I was. Lost like I was. Believing what they're told. Sacrifices. Spilling blood for a lie. I speak the truth. I speak the truth. You are. I speak the truth. I speak the truth. Let go. I speak the truth. è il passaggio di Dio è il passaggio di Dio è il passaggio di sinistra e è stato sacrificato e le persone si riusciti fino a che arrivi portare il passaggio di sinistra Dio non può essere mati ciò che possiamo fare è portare Reagisci, dai! Perfizzi i te dottori, i... ...i... ...i destruo... Lies... ...i te dottori... ...i te dottori... ...i ricordi... ...i ceritato a te prendere... ...in la scuridità... ...la scuridità... ...e te dice che non c'era il modo... ...che i te dottori... ...ma te dottori... ...ma te lontan... ...te erano forte... ...maybe... ...te potrò ralasci... ...la potrò ralasci... ...la potrò ralasci... ...la potrò ralasci... ...vergoisse... ...modalise la potrò ralasci... ... había un modo... ...la Horè. ...ca Ada olur trani... ...ografion... ...esina le potrò ralasci... ...tele potrà Marco Pruell... ...FRULLA È inegriages... ...la potrà ralasci... ... Arduino, corretta è uti di tutta... ...i c'è alcrog... ...cogo, io in gradi non ho ralasci... ma penso che se qualcuno possa trovare un modo, è tu sa che noi siamo speciali prima, quando ti riscuvo ha detto che tu stai chiesto per me ma non ho mai visto come si potrebbe vedere dentro di te qualcuno che qualcuno potrebbe venire qualcuno differente tu sei different qualcuno con la capacità di guardare il mondo e vedere cosa che potrebbe essere tu sei special non è non è special e è tu è proprio come gli altri non è special no, è special senti listening to the voices that we cannot hear to the verdir and gandir voices? how does he know about us? you have the ability to see behind the veil you are a sedukona, a seer whether you know it yet or not a seer? what is this he speaks of? do you know Senwa? do you know this is you? il toige where does she go when the sun is up? Lei ha portato il dolore a tutti. Un monore? Si guarda lì. Sì. 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 ma ora si scendono in la terra anche i giganti stiano chiaramente i giganti li ha se i giganti li ha i giganti li ha i must hold the key today hold the secret will they help us well they have no love for man and whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair although i did consume that bitter breath just once so it is not impossible if he can find them you can find them they will they will test you we have been tested before they might even try to kill you but if you win their favor we might die they might give you what you seek where can i find them they will give us what we seek there's a rock close to here where they are said to live its entrance is hidden you might find it she will find it they want you to you will you will you will i will find it we might die down there no we could die trying to find them they will give us what we seek they are dangerous but they will help us but they will help us we will make them make them they know things they can see things they can hear things they are the ones that pull us here they are the feeling that brought us here they will save everyone from death they will show you how to end the giants they will save you but be careful no more sacrifices be careful someone this stops now the situation is tostissima ragazzi anche perché cioè come fai a non andare avanti cioè attira ho una curiosità assurda allora il piccolo popolo quindi si va a conoscere un popolo che prima erano delle divinità il gigante o la gigantessa ha paura di loro anche se hanno parlato di gigantessa quindi lì c'è il vulcano wow ragazzi nel prossimo episodio andremo è stato forse un po' corto questo effettivamente vediamo vediamo perché magari vi va bene così però ci stanno anche quelli più lunghi quindi fatemi sapere magari nei commenti però raga questo ve lo devo piazzare subito oggi a luna subito perché tantissima roba raga cioè a parte tutto quello che è successo però questa la trama è bellissima cioè adesso bisogna andare a incontrare questi che potrebbero darci una mano contro la gigantessa e poi capire tutti gli intrallazzi che ci stanno sotto perché ci sono degli intrallazzi e ci sono delle cose nascoste che ancora loro due non ci hanno detto occhio ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi lasciate un bel like fatemi sapere ovviamente io ho sempre bisogno della vostra forza quindi voi mi date forza con commenti e like e oggi vi metto anche un altro episodio non solo questo anche un altro ci vediamo alla prossima che roba ragazzi inquadriamola perché ci sarà un lungo viaggio ci vediamo nel prossimo episodio più tardi che vediamo nel prossimo episodio